buongiorno allora queste sono delle giornate frenetiche che precedono il 24 25 il 26 insomma tutte le feste tra natale e capodanno e quindi tempo di cucinare proprio non c'è oggi faccio penso le farfalle integrali con i carciofi utilizzo i carciofi congelati li ho messi a cuocere in acqua salata con bel sale e li faccio cuocere per 10 minuti poi utilizzerò una cipolla la pancetta affumicata i carciofi che stanno cuocendo e tanto prezzemolo e anche qualche pomodoro la pancetta e la cipolla sono ben rosolati o sono ben rosolati io ho scaldato le carciofi li ho togliati a pezzettini adesso li vado ad unire al al soffritto e vado ad aggiungerci anche i pomodori e il prezzemolo e aggiusto di sale e di pepe ho unito tutti gli ingredienti faccio soffriggere per 5 minuti la pasta è arrivata a metà cottura adesso scolo e verso direttamente nella padella con ho versato la pasta nella padella con il condimento ho messo il formaggio giro e in piatto